Buchi, erba che fuoriesce e piccoli sassi sul circuito. Sono diverse le segnalazioni arrivate alla nostra redazione sullo stato di degrado del circuito ciclistico Marconi. Aperto ieri dopo il periodo di lockdown, l'impianto sportivo era stato sistemato sei mesi fa con il nuovo asfalto. Nonostante le migliori apportate anche ultimamente, come all'illuminazione, alcuni fanesi non sono soddisfatti per lo stato attuale del circuito fanese, definito potenzialmente pericoloso in particolare per chi utilizza bici e pattini. Io non mi spiego perché dopo poco più o poco meno sei mesi scappa fuori queste cose. Le buche, come ci racconta il segnalatore, si sono formate già nel mese di febbraio. Poi, dopo le segnalazioni fatte al comune, qualcuno ci racconta intervenuto con del cemento liquido per provare a risolvere il problema, ma senza riuscirci. Hanno provato a rimediare, però a vederlo così, sembra che la toppa è peggio del buco, almeno da quello che si vede, però anche loro secondo me hanno cercato di rimediare, perché i lavori inizialmente sono stati fatti o perché, come diceva quella signora là che diceva che i soldi non bastavano, non lo so, io queste cose non le so. Pericoloso, basta chiuderli, quei buchetti, almeno nelle curve, beh, ecco, chiusi un po' con più grazia, ecco tutto qui.